buonasera a tutti qualche giorno fa scrissi su facebook che avrei girato un video in cosa consiste questo video andremo sul mio facebook sul mio account facebook scacchieremo come si dice qui qualche fotografia e la modificheremo infatti guarda a caso come primo post mi esce un certo tino fasola se i presidenti non lo fanno alle loro mogli lo fanno al loro paese oh mio dio dunque non trovando niente nella mia home mi sono permesso di andare nel profilo di un certo angelo in rosso ma tanta vedi là che meraviglia tanta tanta roba ma ci sono anch'io che è meraviglia e ci sono di nuovo io insomma marinelli forever io giusi e pierangelonisi nonostante io non vi conosca dovete perdonarmi specialmente pierangelo appunto devo usare un attimo il tuo corpus quindi scusami un secondo quanto sei tenero qui angelo vediamo un po che cosa possiamo fare eh vabbè così va molto meglio ma che meraviglia facciamo una nuova cartella fuotissime vaffanculo si se la volete essere scritta è praticamente angelo rosso che sta per passare o probabilmente ha già passato una notte focosa e d'amore con il caro vecchio amico Rocco Siffredi che se fatto nel frattempo un taglio tutto nuovo per l'esigenza insomma la chiamiamo viaggio duro non chiedetemi perché ma andiamo avanti oh caro giambito visto che questa fotografia la trovo nella mia home praticamente sempre 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 ho deciso che potrebbe essere un'altra fantastica vittima di questo fantastico video quindi questo sei tu questo è il formaggio con le mozzarelle e vediamo un po che cosa farti maledizione sembri un mostro di salentino si no no manca una cosa ora sei perfetto sei praticamente pronto per halloween nonostante sia passato ormai qualche giorno da halloween e allegramente passiamo a qualcos'altro ricordo che circa due settimane fa quando ho messo quella mia foto alla profilo della patata no con cracco il maestro donato semeraro e mi chiede oddio sotto stava donato baccaro no oh mio dio comunque mi chiese vabbè scusate non credo di avercelo come amico infatti non ce l'ho come amico ma gli è arrivato per caso il video no davvero ho paura di scoprirlo scusatemi mi aveva chiesto anche lui di fare un fotomontaggio però su Joe Bastianich allora maestro io le dico non è che ci sia tutta questa grande differenza tra lei e tra Joe Bastianich però ci proviamo no? trovare non costa nulla a parte quando fai video su donato baccaro che vengono condivisi così ok lui è Joe Bastianich maestro proviamoci ma ed ecco qui io non noto differenze non ci sono io direi di farne soltanto un altro oh magicamente siamo arrivati siamo arrivati nella bacheca di Matteo vediamo se c'è qualcosa a parte lui che deve mangiare agli scogliattoli lui che piscia e io con Pierluigi oh mio dio cosa sta succedendo qui no 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 bruciano gli occhi vediamo qui che altro c'è a parte lui che si strafuga di panzerotti la probabile continuazione della foto di prima ci sono oh no Dio è grande e c'è i capelli a caschetto la barba suona il tarinetto ma per prima cosa dobbiamo togliere queste scritte qui quindi ci prendiamo solo la fotografia off beh direi che le cose semplici sono sempre quelle più efficaci ah però manca qualcosa manca qualcosa così sei perfetto guarda sei perfetto non faccio più nulla perché va benissimo così beh beh secondo me basta così grazie a tutti grazie a tutti